Con la bella stagione è ripartita anche l'offerta estiva del trasporto legato al turismo di Dolomiti Bus. Da sabato 12 giugno sono ufficialmente tornati ad operare i bus per il mare con il collegamento dalla provincia di Belluno a Jesolo e Ritorno. Servizio svolto in pulla con la ditta veneziana ATVO che permette di raggiungere anche le altre località balneari della parte settentrionale del litorale adriatico come Eraclea, Caorle, Bibione e solo per citarne alcune. Un servizio che si svolge in sicurezza con la prenotazione obbligatoria del posto a sedere. Significativi dati del primo weekend di ripresa della linea stagionale con una cinquantina circa di utenti. È ripartita la linea attiva della Dolomiti Bus che ha registrato già una notevole affluenza, cosa doppiamente positiva sia dal punto di vista dei numeri turistici ma anche dal punto di vista che venga utilizzato il bus, scelto il bus come mezzo sicuro per spostarsi. A fine mese poi ripartiranno l'Auronzo Link e il trenobus delle Dolomiti, entrambi i servizi che danno la possibilità di raggiungere le nostre zone montane utilizzando sia il treno che il bus e portando insieme anche la bicicletta. Un sistema davvero molto importante per valorizzare turisticamente il nostro territorio che permette soprattutto anche di rispettare l'ambiente, cercando così anche di diminuire il numero delle macchine presenti sulle nostre strade. Soddisfatti i primi fruitori Siamo molto entusiasti per questa giornata Non importa che tempo oggi, però andiamo Finalmente torniamo in normalità e possiamo fare un po' di più cose e soprattutto andare al mare I trasporti per il mare in vigore fino al 5 settembre saranno giornalieri. Da lunedì 14 giugno inoltre Dolomiti Bus comunica l'entrata in vigore dell'orario estivo con anche le corse turistiche per la montagna. Grazie. Grazie.